Aspra salita evolutiva. Perché uno fa l'esperienza del selvaggio o dell'assassino? Commento. Perché viene orora dal mondo animale e alle prime incarnazioni umane e non sente di essere né selvaggio né delinquente. Per lui sono necessarie esperienze molto dure. I grandi dolori sono proporzionati all'insensibilità umana. Lo prova il fatto che i più amano tanto la vita umana che è un'aspera salita evolutiva.